Un profondo invito ad essere strumenti della misericordia di Dio anche verso chi ha sbagliato come i carcerati e a chi è solo come i malati. Lo ha rivolto il Papa alla Catechesi dell'Udienza Generale, stamani in Piazza San Pietro, dedicata ancora alle opere di misericordia. Francesco chiede di non puntare il dito perché un carcerato sconta la pena ma qualunque cosa uno possa aver commesso rimane pur sempre amato da Dio. L'organizzazione del Giubileo delle persone socialmente escluse, che si celebrerà domenica prossima, è stata promossa dall'associazione francese Fratello, che opera per dare dignità a moltissimi senza tetto. Saranno circa 4.000 le persone senza fissa dimora che si riuniranno a Roma da tutta Europa per la tre giorni e domenica per la messa in San Pietro. Intervista al portavoce dell'associazione Fratello, François Le Forestier. La diplomazia della Santa Sede nella Società Postglobale, il tema della Lectio Magistralis, tenuta questa mattina dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico della Pontificia Università Lateranense. È necessario lavorare tutti per cambiare la situazione mondiale che è di grave lacerazione e di grave conflitto, ha detto il porporato, operare senza fermarsi per il dialogo. All'udienza generale il Papa, ricordando che oggi la Chiesa celebra la dedicazione della Basilica Lateranense, Cattedrale di Roma, ha rivolto un saluto ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, invitandoli alla preghiera per il successore di Pietro. Papa Francesco, questa mattina in una delle ultime udienze generali inserite nell'anno santo straordinario della misericordia, ha proseguito la sua catechesi sulle opere di misericordia corporale, soffermandosi sulla visita agli ammalati e ai carcerati. Il Santo Padre ha ricordato come Gesù nei tre anni del suo ministero pubblico abbia avuto un incessante incontro con le persone e tra queste un posto speciale hanno avuto gli ammalati. Gesù si è fatto vicino a ognuno di loro e li ha guariti con la sua presenza e la potenza della sua forza risanatrice. Pertanto non può mancare tra le opere di misericordia quella di visitare e assistere le persone malatte. Gesù, ha proseguito il Papa, ci ha donato la possibilità di essere liberi nonostante i limiti della malattia e delle restrizioni. Egli ci offre la libertà che proviene dall'incontro con Lui e dal senso nuovo che questo incontro porta alla nostra condizione personale. Con queste opere di misericordia il Signore ci invita a un gesto di grande umanità, la condivisione. Chi è malato spesso si sente scolò. Non possiamo nascondere che soprattutto ai nostri giorni, proprio nella malattia si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita. Una visita può far sentire la persona malata meno sola. È un po' di compagnia e un'ottima medicina. Quante persone si dedicano a visitare gli ammalati negli ospedali o nelle loro case. È un'opera di volontariato impagabile. Quando viene fatta nel nome del Signore allora diventa anche espressione eloquente ed efficace di misericordia. Gli ospedali, ha sottolineato il Papa, sono vere cattedrali del dolore, dove però si rende evidente anche la forza della carità che sostiene e prova compassione. Alla stessa stregua, sono le parole del Papa, penso a quanti sono rinchiusi in carcere. Gesù non ha dimenticato neppure loro. Ponendo la vista, la visita ai carcerati tra le opere di misericordia ha voluto invitarci anzitutto a non farci giudici di nessuno. Certo, se uno è in carcere è perché ha sbagliato, non ha rispettato la legge e la convivenza civile, perciò in prigione sta scontando la sua pena. Ma qualunque cosa un carcerato possa aver fatto, egli rimane pur sempre amato da Dio. Chi può entrare nell'intimo della sua coscienza per capire che cosa prova? Chi può comprendere il dolore e il rimorso? Si è chiesto il Papa. È troppo facile lavarsi le mani affermando che ha sbagliato. Un cristiano è chiamato piuttosto a farsene carico, perché chi ha sbagliato comprenda il male compiuto e ritorna in se stesso. Visitare le persone in carcere è un'opera di misericordia che soprattutto oggi assume un valore particolare per le diverse forme di giustizialismo a cui siamo sottoposti. Nessuno dunque punti il ditto contro qualcuno. Francesco ha invitato tutti a rendersi strumenti di misericordia con atteggiamenti di condivisione e di rispetto. I carcerati sono nei pensieri e nel cuore del Papa e verso di loro manifesta la vicinanza e la tenerezza che rende presente la misericordia di Dio che compie prodigi. Queste opere di misericordia, ha concluso il Papa, sono antiche eppure sempre attuali. Tutti noi possiamo essere strumenti della misericordia di Dio e questo farà più bene a noi che agli altri, perché la misericordia passa attraverso un gesto, una parola, una visita e questa misericordia è un atto per restituire gioia e dignità a chi l'ha perduta. Da più di dieci anni in Francia i giovani professionisti, studenti e persone senza casa abitano insieme in alcuni appartamenti condivisi. Nel 2014 tutti insieme abbiamo fatto un primo pellegrinaggio ed eravamo 300 a Roma ed è stata una grande gioia, la gioia di essere chiamati tutti alla santità, di incontrare il Santo Padre Papa Francesco. Quando è stato annunciato il Giubileo della Misericordia abbiamo scritto una lettera al Papa per chiedergli di accoglierci durante il Giubileo per celebrare con tutti senza tetto di tutta Europa la misericordia di Dio. Come si svilupperà questo pellegrinaggio? Il pellegrinaggio di tre giorni sarà corto ma molto intenso. Il venerdì mattina ci sarà il primo momento forte, l'incontro con il Santo Padre Papa Francesco in Aula Paolo VI. Ci sarà una catechese e forse ci sarà uno scambio. Secondo momento forte, sabato sera, una grande veglia di misericordia con processione o flambeau intorno alla Basilica di San Paolo fuori le mura che è la più grande basilica a Roma. Durante questo tempo di preghiera le persone, i pellegrini potranno confessarsi, domandare la misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione. Terzo momento forte, il più grande, sarà la messa celebrata nella Basilica di San Pietro domenica mattina con il Santo Padre. La Basilica di San Pietro sarà riempita dai senza tetto che vengono da tutta Europa per pregare il Signore e credo che per la storia della Chiesa sarà un momento assolutamente incredibile. Avete organizzato questo appuntamento? Quante persone parteciperanno? Ad oggi credo ci saranno circa 4.000 pellegrini, 3.500 sono gli iscritti, ma attendiamo gli operai dell'ultima ora, quelli che si iscriveranno alla fine come anche gli italiani e i romani pensiamo si iscriveranno alla fine. Il viaggio però costa, come hanno fatto a pagarlo? Noi abbiamo fatto appello alla generosità delle persone in Francia ma anche negli altri paesi europei. Questo ci ha permesso di finanziare il pellegrinaggio per ciascuno dei pellegrini, perché certo il trasporto, l'alloggio sono spese, ma la generosità è stata magnifica. È la prima volta per un appuntamento del genere in San Pietro? Credo di sì. È senz'altro un evento storico che i senza tetto di tutta Europa si trovino in San Pietro per celebrare la messa con il Santo Padre. Un fatto storico che avviene proprio alla fine del Giubileo e così sono le persone senza dimora, le persone più escluse ma anche i detenuti, come domenica scorsa, che invitano tutto il popolo di Dio a camminare verso Dio. Le persone senza tetto vengono innanzitutto per incontrare il Papa ma anche per fare un'esperienza di chiesa con persone che vengono da differenti paesi ma anche per visitare Roma. Molti di loro non conoscono Roma. Ci sono molte ragioni ma quello che è davvero importante è che per ogni pellegrino della strada c'è dietro una impresa per chi ha dovuto attraversare delle inquietudini, angosce, paure, che sono certo mescolate alla gioia ma anche paure perché per loro andare a Roma è andare verso l'ignoto. Perché queste persone finiscono per strada? In Francia, in Europa, in tutte le grandi capitali ci sono molte persone senza tetto per due motivi perché ci sono molti migranti che arrivano e non hanno alloggio e poi, seconda ragione, perché le relazioni sociali nei nostri paesi sono talvolta indebolite e alcune persone abitate da vergogna e paura preferiscono nascondersi per strada e non riescono a chiedere aiuto al loro prossimo. Siete contenti per questo evento? Siamo tutti molto molto contenti per questo giubileo perché per ciascuno sarà un'esperienza spirituale molto forte ma è una buona notizia anche per la Chiesa e per il mondo. Se i più poveri domandano la misericordia di Dio allora tutti noi possiamo chiederla e credo che questo sia una speranza davanti a un mondo che è pieno di violenza e di guerre. La diplomazia della Santa Sede nella società post-globale è il titolo della Lectio Magistralis tenuta questa mattina dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per l'inaugurazione del nuovo anno accademico della Pontificia Università Lateranense. Il porporato ha tratteggiato lo scenario mondiale in cui si trova ad operare la diplomazia vaticana, un contesto post-globale che, usando l'immagine evocata da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, è un poliedro che sostituisce la sfera, volume che plasticamente sta significare la complessità della vita internazionale. Frammentazione delle regole di vari socio-economici tra paesi, conflitto asimmetrico per combattere il terrorismo. Il post-globale, ha spiegato il Cardinal Parolin, fa emergere risposte molteplici e spesso talmente discordanti da provocare immobilismo, unilateralismo e abitudinarietà che anestetizza l'animo e impedisce di scoprire la novità. Il porporato ha portato qualche esempio concreto. I diplomatici negoziano senza che tutte le parti siano coinvolte, i civili sono privi di protezione, gli ospedali diventano obiettivi militari, i tanti gruppi combattenti rievocano la vecchia guerra mercenaria, mancano acqua e viveri, ma circolano liberamente armi di ogni tipo. Di fronte alle trasformazioni nella società post-globale, alla diplomazia vaticana si impone di stabilire contatti, dialogare e allacciare relazioni stabili, anche con realtà con le quali sembra al momento lontana ogni possibile intesa. Una diplomazia che si trova a lavorare in un contesto molto frammentato, ha detto, in questa relazione quali sono le direttive che deve seguire, che sta seguendo? Ma diciamo che i principi della diplomazia della Santa Sede rimangono quelli tradizionali, quelli che fanno parte del suo patrimonio, del suo DNA, diremmo, una diplomazia che è nata soprattutto per tutelare e per promuovere la pace. Ecco, la grande svolta fu data da Benedetto XV, proprio all'inizio del secolo scorso, in occasione della grande guerra. E quindi della composizione pacifica dei conflitti, dell'uso del negoziato e del dialogo, molto sottolineato da Papa Francesco. Il problema oggi è quello che infatti dicevo nella relazione, nella relazione e come coniugare, come articolare questi principi in una realtà che è molto cambiata rispetto al passato, che fugge ai criteri tradizionali di comprensione e anche diciamo di operatività. E lì bisogna inventarci, bisogna inventarci. È il periodo della creatività per appunto poter dare risposte effettive, perché altrimenti rischiamo di essere inutili. Citava il Cardinale Casaroli? Citava il Cardinale Casaroli per dire quello che ho detto, ecco, rileggetelo e diffondetelo. Alle domande dei giornalisti sul nuovo Presidente degli Stati Uniti, il Cardinale Parolin ha risposto, prendiamo nota con rispetto, della volontà espressa dal popolo americano in questo esercizio di democrazia. Facciamo gli auguri al nuovo Presidente, assicuriamo anche la nostra preghiera. Il Signore lo illumini e lo sostenga a servizio della sua patria, del benessere e della pace nel mondo. È necessario lavorare tutti per cambiare la situazione mondiale, che è di grave lacerazione, di grave conflitto, ha detto poi il porporato, operare senza fermarsi per il dialogo. All'udienza generale il Papa, ricordando che oggi la Chiesa celebra la dedicazione della Basilica Lateranense Cattedrale di Roma, ha rivolto un saluto ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Pregate per il successore dell'Apostolo Pietro, cari giovani, affinché confermi sempre i fratelli nella fede. Sentite la vicinanza del Papa nella preghiera, cari ammalati, per affrontare la prova della malattia. Insegnate con semplicità la fede ai vostri figli, cari sposi novelli, nutriendola con l'amore per la Chiesa e per i suoi pastori. La Basilica Lateranense, chiamata madre di tutte le Chiese dell'Urbe e dell'Orbe, è stata la prima Chiesa della storia ad essere pubblicamente consacrata. L'imperatore romano Costantino, dopo essersi convertito alla religione cristiana, donò infatti al Papa il Palazzo del Laterano. La Basilica venne consacrata nel 324 da Papa Silvestro I e dedicata al Santissimo Salvatore. Nel IX secolo Papa Sergio III la dedicò anche a San Giovanni Battista, mentre nel XII secolo Papa Lucio II aggiunse anche San Giovanni Evangelista. Dal IV secolo fino al termine del periodo avignonese, in cui il papato si spostò ad Avignone, il Laterano fu l'unica sede del papato. Il patriarchio o dimora lateranense, l'antica sede papale annesso alla Basilica, fu la residenza dei papi per tutto il Medioevo. Il Laterano quindi fu da questo periodo, fino al XIV secolo, la sede e il simbolo del papato e quindi il cuore della vita della Chiesa. Vi furono ospitati anche cinque concigli ecumenici. Nel 1378, con l'elezione di Gregorio XI, sia alla fine del periodo avignonese. Gregorio XI riporta il papato a Roma, ma con il Laterano, in pessime condizioni, i Papa preferiranno dall'ora in poi il Vaticano. Prima pagina dell'osservatore romano con la data del 10 novembre 2016. Il Papa invita a visitare malati e carcerati, per restituire dignità. Ha ottenuto 306 grandi elettori ed è il nuovo presidente degli Stati Uniti, il giorno di Donald Trump. I repubblicani conquistano sia il Senato che la Camera dei rappresentanti. Fonti del Ministero della Difesa parlano di offensiva imminente dalla flotta nel Mediterraneo. Mosca prepara l'attacco su Aleppo.